Bello mondo, sei casa nostra e noi, avremo cura di te, bello mondo, bello mondo, sei casa nostra. Quanti anni compie? 87 anni, 87. Cosa vogliamo augurare al Papa? Salute, essere testimoni di fede, essere testimone di fede e poi serenità di spirito, auguri, facciamo un applauso, forte, forte. Ciao Papa Francesco, io mi chiamo Sanna, buon compleanno, auguri. Ciao Papa Francesco, quando ogni bene si faccia amore, buon compleanno e la santità, che Dio la benedita. Siamo un arcobaleno, teniamoci per mano, soltanto lì che il mondo sarà un posto più serio. Buon compleanno Santo Padre, bella per tutti voi e per la pace. Paggia, auguri al Santo Padre, auguri Papa Francesco, sarebbe bello un mondo di pace, auguri a Papa Francesco. Paggia, auguri, Papa Francesco. Baccia! Buon Natale! Buon Natale! E tutti bene, Papa Francesco. Auguri! Auguri! Ciao, sono Simona, insieme al Consiglio, io mi voglio fare gli auguri di buon compleanno al Papa. E colgo l'occasione di fare gli auguri di un sereno Natale, con la speranza che questo Natale porti tanta serenità e pace e mai più guerre. Ciao, 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 papà. E' anche bello quello che, quel cartello, quel scritto lì. Grazie, grazie tante. Molto bello. Per un mondo migliore, avanti. Bello mondo, bello mondo, sei casa nostra e noi avremo cura di te. Bello mondo, bello mondo.